Il Benevento di Gaetano Auteri assapora la qualificazione alla semifinale play-off, anche se sabato sera a Sassari bisognerà superare all'ostacolo Torres. I Sardi, una delle sorprese della Lega Pro, sono arrivati secondi in classifica e di conseguenza testa di serie. Al Vigorito non è andata benissimo per il Rosso-Blu perché il gol d'Italia ha messo in discesa il cammino del Benevento. È chiaro che la Torres potrà vincere con un gol di scarto, pareggiando i conti, staccando il pass per le Final Four, ma bisognerà per forza vincere. Anche un pareggio darebbe via libera alle streghe. I giallorossi in questi play-off si sono affidati molto ai colpi dei singoli, a cominciare dalla sfida del Nero Rocco contro la Triestina. Lì un super gol di Lanini ha regalato il pareggio al Benevento, permettendogli di giocare con maggiore scioltezza il ritorno. Un ritorno fatto da altri colpi, la pennellata dei ciciretti e la bella rete del giovane perlingieri. Un po' il leitmotiv delle streghe, che anche in campionato molto spesso hanno soffruito delle giocate e della qualità dei singoli piuttosto che vincere di squadra. Ma tant'è ai tifosi beneventani, ovviamente, va bene anche così, perché il cammino play-off della formazione di Auteri è finora importante e positivo. Sarà una battaglia contro la Torres e sabato sera non si potranno fare calcoli perché i sardi giocano un buon calcio, qualità e velocità, così come fatto proprio al vigorito. Dall'altra parte il ritorno di Cararese e Juventus Next Gen dopo il pareggio del Mucca Gatta, i Toscani giocano per il doppio risultato, per regalarsi proprio una tra Benevento e Torres.